Buongiorno amici di Piazza Affari, eccoci qua, siamo appunto da Piazza Affari, ma oggi qui a Piazza Affari è venuta a trovarci un'amica, Fanny, eccola. Ciao Fanny, come stai? Tutto bene? Bene, ma ti vedo in forma, grande, ma vediamo, ma che fantastici pantaloni indossi, inquadramoli bene, ma sono dei pantaloni tipo da tuta, carini, un bel colore, un turchese brillante, comprati dove? Fanny, alla Piazza Affari, quanto l'hai pagati? 10 euro, incredibile amici, incredibile, solo 10 euro questi pantaloni, e questa maglietta da Infamous, 12 euro, sempre alla Piazza Affari, ma grande, bella, briosa, energetica, primaverile, ragazze, io se fosse voi seguirei i consigli di Fanny, e allora dici anche questa felpa garzata, ah, come i Fanny? 15 euro? Ma caspita, ma, cioè, tu parli poco, ma ogni parola che dici è come fosse Vangelo, e quindi raga, fate come Fanny, venite da Piazza Affari, e con poco vi vestite alla grandissima, ok? Vi aspetto, ragazze, ciao da Piazza Affari!